Eliminare completamente le pratiche cartacee e di conseguenza l'obbligo di recarsi presso gli uffici comunali è uno degli obiettivi per il quale il comune di Salerno ha affidato ad Almaviva la digitalizzazione del rapporto tra amministrazione e cittadini. L'interessato potrà seguire l'iter di approvazione della propria pratica individuando l'ufficio responsabile tutto online. Inoltre attraverso la stessa convenzione Almaviva creerà anche un'app per consentire la fruizione dei servizi in mobilità. Il cittadino utente potrà registrarsi con credenziali speed, presentare le proprie istanze con il comune, verificare lo stato e eventualmente anche integrare la documentazione. Ci consentirà in questo modo di far sentire il cittadino più vicino all'ente, creare una una piattaforma in cui c'è interoperabilità con i nostri sistemi informativi e questa piattaforma è nata da una convenzione Consip attivata con la società Almaviva che ringrazio e ringrazio Vincenzo Pinto su tutti e grazie anche al lavoro fatto con i nostri sistemi informativi e mi permetto di ringraziare il direttore Armando Calibalti e Simonetta Di Nolfi che hanno avuto efficacissimi compiti di direzione e consentirà ancora di più di dematerializzare ciò che comunemente viene fatto all'interno degli uffici.